quando rinvenni era notte ero disteso su un giaciglio e una lanterna che vacillava al soffitto mi fece intravedere altri giacigli allineati ai due lati del mio capì che mi avevano portato in infermeria rimasi sveglio per qualche minuto ma senza pensieri e senza ricordi immerso nella gioia di essere in un letto in altri tempi quel letto d'ospedale e di prigione mi avrebbe certamente fatto indietreggiare per il disgusto e la pietà ma ora non ero più lo stesso uomo le lenzuola erano ruvide e grigie è vero la coperta leggera e bucata e attraverso il materasso si sentiva il paglierizzo ma che importa le mie membra potevano sgranchirsi come volevano tra quelle lenzuola grigie sotto quella coperta per leggera che fosse sentivo sparire a poco a poco quell'orribile freddo dentro al midollo delle ossa al quale mi ero abituato e mi riaddormentai era appena l'alba quando mi svegliò un gran fracasso che veniva da fuori il mio letto era vicino alla finestra e mi alzai a sedere per vedere che cosa fosse la finestra dava sul cortile più grande di Bissettra era pieno di gente due file di veterani a fatica tenevano sgombro nel mezzo un passaggio che lo attraversava da un capo all'altro tra queste due siepi di soldati marciavano lentamente sobbalzando ad ogni sasso cinque lunghi carri carichi di uomini erano i forzati che partivano i carri erano scoperti e ogni cordone ne occupava uno i forzati erano seduti ai due lati addossati gli uni agli altri separati dalla catena comune che si snodava nel senso della lunghezza e sull'estremità della quale in piedi con il fucile spianato teneva il piede una guardia si sentivano tintinnare i loro ferri e ad ogni scossa della vettura si vedevano sobbalzare le teste e ballare le gambe penzoloni una pioggia fine e penetrante rendeva freddissima l'aria e incollava loro sulle ginocchia i pantaloni di tela da grigi diventati neri le loro lunghe barbe i corti capelli gocciolavano i loro visi erano lividi mi si vedeva rabbrividire e i loro denti battevano dall'ira e dal freddo per il resto non un movimento era possibile una volta attaccati a quella catena non si è più che una particella di quel tutto odioso che si chiama il cordone e che si muove come un unico uomo l'intelligenza deve abdicare e collare del bagno la condanna a morte e l'animale stesso non deve più avere bisogno o desideri che adore fisse così immobili la maggior parte mezzi nudi teste coperte e piedi penzoloni essi cominciavano il loro viaggio di 25 giorni vestiti con gli stessi vestiti sia per il sole a piombo di luglio sia per le fredde piogge di novembre come se si volesse incaricare anche il cielo di fare la sua parte di boia tra la folla e i carri intanto si era intavolato non so quale orribile dialogo ingiurie da una parte bravate dall'altra imprecazioni da tutte e due ma a un segnale del capitano vidi piovere a caso nei carri colpi di bastone sulle spalle o sulle teste e tutto ritornò subito in quella specie di calma esteriore che chiamano ordine ma gli occhi erano pieni di vendetta e i pugni di quei miserabili si stringevano sulle ginocchia i cinque carri scortati da gendarmi a cavallo e da guardie a piedi sparirono infine sotto l'alto portone a volta di Bissetra seguiti da un sesto nel quale traballavano alla rinfusa le pentole le gavette di rame e le catene di ricambio qualche guardia ciurma e si era attardata in cantina uscì di corsa per raggiungere la squadra la folla si allontanò e tutto lo spettacolo svanì come una fantasmagoria si sentì diminuire a poco a poco nell'aria il sordo rumore delle ruote e degli zoccoli dei cavalli sulla via acciotolata di Fontainebleau i schiocchi di frusta il tintinio delle catene e le urla della gente che augurava disgrazia al viaggio dei galeotti poi più niente e quello per loro non era che l'inizio cosa mi diceva dunque l'avvocato l'ergastolo ma sì piuttosto il palco che il bagno piuttosto il nulla che l'inferno piuttosto dare la mia testa al coltello di guillotin che al collare della ciurma l'ergastolo mio dio sfortunatamente non ero malato il giorno dopo dovetti uscire dall'infermeria e mi ringhiotti la cella non ammalato effettivamente sono giovane sano e forte il sangue circola liberamente nelle mie vene tutte le mie membra obbediscono ad ogni mio capriccio sono robusto di corpo e di spirito fatto per una lunga vita sì tutto questo è vero e tuttavia ho una malattia mortale una malattia fatta dalle mani degli uomini da quando sono uscito dall'infermeria mi ha preso un'idea pungente un'idea da rendermi folle che avrei forse potuto fuggire se qualcuno mi avesse un po' favorito quei medici quelle suore di carità sembravano avere interesse per me morire così giovane di una simile morte ti sarebbe detto che mi compiangessero tanto si affollavano intorno al mio letto bah curiosità e poi questa gente che guarisce ti guarisce sì da una febbre ma non certo da una sentenza di morte e sarebbe loro tuttavia così facile una porta aperta che cosa mai costerebbe loro ma più nessuna speranza ormai il mio ricorso sarà respinto poiché tutto è in regola i testimoni hanno ben testimoniato i difensori hanno ben difeso i giudici hanno ben giudicato io non ci sono più a meno che no pazzie più nessuna speranza il ricorso è una corta che ti tiene sospesi sopra l'abisso e che si sente scricchiolare ad ogni momento finché si spezza è come se il coltello della ghigliottina impiegasse sei settimane a cadere e se io avessi la grazia avere la grazia e da chi e perché e come è impossibile che mi si faccia la grazia i precedenti come dicono loro non mi restano più che tre passi da fare visettre la consergerie la greve durante le poche ore passate all'infermeria mi ero seduto vicino a una finestra al sole finalmente riapparso o meglio a prendere del sole tutto quello che mi lasciavano le sbarre dell'inferriata me ne stavo là con la testa pensante tra le mani che la reggevano a stento i gomiti sulle ginocchia e i piedi sui piuoli della sedia poiché lo scoramento mi fa incurvare e ripiegare su me stesso come se non avessi più ossa nelle membra nei muscoli nella carne l'odore di chiuso della prigione mi soffocava più che mai e con ancora nelle orecchie tutto quel fracasso delle catene dei galeotti sentivo una grande stanchezza mi sembrava che il buon dio avesse ben dovuto aver pietà di me ed inviarmi almeno un piccolo uccello a cantare un po' con me là in faccia sul bordo del tetto non so se sia stato il buon dio che mi ha esaudito ma quasi in quello stesso istante sentii levarsi sotto la finestra una voce non quella di un uccello ma molto di meglio la voce pura fresca vellutata di una fanciulla di quindici anni alzai la testa come di soprassalto ascoltando avidamente la canzone che cantava era un'aria lenta e melanconica una specie di nenia triste e lamentosa in via del maglio è stato che sono stato preso ahimè da tre brutti sbirri ahimè poveretto e non so dire quanto fu amaro il mio disappunto la voce continuò che mi hanno morsicato poveretto me che mi hanno morsicato ahimè m'hanno messo le manette ahimè poveretto e il ruffiano è arrivato poveretto me nella strada trovo un ladro ahimè poveretto c'è un ladro del quartiere poveretto me era un ladro del quartiere ahimè va a dire alla mia donna ahimè poveretto che mi ha messo sotto chiave poveretto me la mia donna tutta in rabbia ahimè poveretto ha gridato cos'hai dunque combinato poveretto me cos'hai dunque combinato ahimè ho cavato sangue a un uomo poveretto me ho cavato sangue a un uomo ahimè poveretto e i denari gli ho pigliato poveretto me i denari e l'orologio ahimè poveretto e le fibre delle scarpe poveretto me la mia donna va a Versailles ahimè poveretto e dai piedi del gran re poveretto me una supplica depone ahimè poveretto perché io sia liberato poveretto me perché io sia liberato ahimè ah se infine uscirò fuori ahimè poveretto farò bella la mia donna poveretto me le farò portare dei nastri ahimè poveretto e scarpine tutte d'oro ahimè ma il re che monta in bestia disse pel berretto mio poveretto me mi farò ballare un ballo ahimè poveretto senza cabbia toccar terra poveretto me non ne sentì e non avrei potuto sentirne di più il senso a metà compreso e a metà nascosto di quell'orribile lamento quella lotta del bandito con le guardie quel quadro che incontra e che manda sulla sua donna quello spaventoso messaggio ho cavato sangue a un uomo e mi hanno messo sotto chiave quella donna che corre a Versailles con una supplica e quel gran re che si indigna e minaccia il colpevole di fargli fare un ballo senza cabbia a toccar terra è tutto questo canto sull'aria più dolce e dalla più dolce voce che abbia mai ascoltato l'orecchio di un uomo sono rimasto ferito agghiacciato disfatto era una cosa ripugnante che tutte quelle mostruose parole uscissero da una così fresca bocca di rosa era come la bava di una lumaca su di un fiore io non saprei dire quello che provavo ero ferito e accarezzato nello stesso tempo il giargo della caverna e della galera questo linguaggio insanguinato e grottesco questo lurido dialetto unito a una voce di fanciulla grazioso passaggio dalla voce di bimba alla voce di donna tutte quelle sporche e deforme parole cantate e ritmate armoniose che cosa infame la prigione c'è un veleno che rovina ogni cosa tutto diventa l'aido perfino la canzone di una fanciulla di quindici anni vi potete trovare un uccello ha il fango sulle ali vi cogliete un fiore grazioso aspirate puzza o se vadessi come correrei per i campi no non bisognerebbe correre ma tira l'attenzione e mette sospetto al contrario camminare lentamente a testa alta cantando cercare di avere qualche pastrano blea di grosse che andrebbe così bene dal momento che tutti gli ortolani dei dintorni lo portano così dalle parti di Arquail conosco una forra vicino a uno stagno dove quando ero in collegio andavo con i miei compagni a pescare le rane tutti i giovedì è là che mi potrei nascondere fino a sera se sarà notte riprenderei la mia corsa andrei avanzando no il fiume me lo impedirebbe andrei ad Arpajon sarebbe stato meglio prendere dalla parte di Saint Germain e andare alle Avra ed imbarcarmi per l'Inghilterra non importa arrivo all'ongimont passa un cendarme mi chiede la carta d'identità sono perduto ah disgraziato sognatore rompi dunque prima di tutto il muro spesso tra piedi che ti imprigiona la morte la morte quando io penso che ancora bambinello sono venuto qui a Bissetre a vederne i profondissimi pozzi i folli mentre scrivevo queste cose la lucerna è andata impallidendo si è fatto giorno e l'orologio della chiesa ha suonato le sei che cosa vuol dire tutto questo il secondino di guardia è entrato nella mia cella si è tolto il cappello mi ha salutato si è scusato di disturbarmi e mi ha chiesto addolcendo come meglio poteva la voce cosa desiderassi mangiare un brivido mi ha corso lungo la schiena che sia per quest'oggi è per quest'oggi il direttore della prigione in persona è appena venuto a farmi visita mi ha chiesto in cosa mi potesse essere utile ha espresso la speranza che io non abbia avuto lamentarmi di lui o dei suoi inferiori si è informato con interesse della mia salute e di come avessi passato la notte e lasciandomi mi ha chiamato signore è per quest'oggi non crede questo carceriere che io abbia a lamentarmi di lui e dei suoi secondini e ha ragione avrai torto infatti a lamentarmi loro hanno fatto il loro mestiere mi hanno ben custodito e all'arrivo e alla partenza sono stati gentili non devo dunque essere contento questo buon carceriere con il suo sorriso benigno le sue parole carezzevoli il suo occhio che lusinga e che spia le sue grosse e larghe mani è la prigione incarnata è Bisset fatto uomo tutto è prigione intorno a me ritrovo la prigione sotto tutte le forme sotto la forma umana come sotto la forma di sbarre e catenacci questo muro è la prigione in pietra questa porta è la prigione in legno questi secondini sono la prigione in carne ed ossa la prigione è una specie di essere orribile completo indivisibile mezzo edificio e mezzo uomo e io sono la sua preda essa mi cova e mi nasconde nelle sue pieghe mi rinserra tra i suoi muri di granito mi incatena dietro le sue serrature di ferro e mi sorveglia con gli occhi dei suoi secondini ah miserabile che cosa sto per diventare che cosa vogliono fare di me sono calmo finalmente tutto è finito completamente finito e sono uscito dall'orribile ansia in cui mi aveva gettato la visita del direttore poiché lo confesso speravo ancora ora grazie a dio non spero più ecco come sono andate le cose nel momento in cui suonavano le sei e mezzo no le sette meno un quarto la porta della cella si è aperta di nuovo ed è entrato un vecchio con la testa tutta bianca vestito con un lungo soprabito scuro era un prete non però il cappellano della prigione e mi si è seduta di fronte a me con un sorriso benevolo poi ha scosso la testa e alzato gli occhi al cielo cioè alla volta della cella io capii figlio mio mi disse siete preparato preparato no risposi ma sono pronto poi mi si confuse la vista in sudore freddo mi uscì da tutte le membra mi sentì gonchiare le tempie le orecchie si riempirono di un ronzio confuso intanto che vacillavo sulla sedia come assopito il buon vecchio parlava almeno così mi è parso e mi sembrava anche di ricordarmi di aver visto muoversi le sue labbra agitarsi le sue mani e ogni tanto brillare i suoi occhi all'improvviso la porta si è aperta una seconda volta strappandoci di colpo con il rumore dei chiavistelli me al mio stupore lui ai suoi discorsi è una specie di signore in abito nero accompagnato dal direttore della prigione si è presentato salutandomi profondamente aveva sul viso qualcosa della tristezza ufficiale degli impiegati delle pompe funebri e teneva nelle mani un rotolo di carta signore mi disse con un sorriso di cortesia io sono l'usciere della corte reale di Parigi ho l'onore di recarvi un messaggio da parte del signor procuratore generale la prima scossa era passata e mi aveva ripreso tutta la mia presenza di spirito è il signor procuratore generale che ha chiesto così insistentemente la mia testa gli risposi è dunque un grande onore che lui ora mi scriva spero ad ogni modo che la mia morte gli abbia a fare molto piacere poiché davvero mi sarebbe duro pensare che lui l'abbia chiesta con tanto ardore mentre in fondo gli è indifferente gli ho detto così e poi ho ripreso con voce ferma orsù signore leggete egli allora si è messo a leggermi un lungo testo cantando alla fine di ogni riga ed esitando a metà di ogni parola era il ricetto del mio ricorso la sentenza sarà eseguita quest'oggi in place de greve ha aggiunto quando ha finito senza alzare gli occhi dalla sua carta piena di timbri partiremo alle sette e mezzo precise per la consergerie mio caro signore avrete l'estrema bontà di seguirmi da qualche minuto io non lo ascoltavo più il direttore parlava con il prete lui aveva l'occhio fisso alla sua carta guardai la porta che era rimasta socchiusa ah miserabili quattro gendarmi nel corridoio Lucera ha ripetuto la sua domanda guardandomi questa volta quando vorrete gli ho risposto a vostra disposizione egli mi ha salutato dicendomi avrò l'onore di venirvi a cercare tra una mezz'ora allora mi hanno lasciato solo un mezzo per fuggire mio dio un mezzo qualsiasi bisogna che io evada bisogna immediatamente dalle porte dalle finestre dal tetto quando anche dovessi lasciare dei brandelli di carne attaccati alle travi maledizione ci vorrebbero dei mesi perforare questo muro con degli arnesi adatti ed io non ho né un chiodo né un'ora non ho né un'ora che non ho né un'ora non ho né un'ora